Diciamo che per noi la consapevolezza è data principalmente dalla conoscenza, quindi se non sai non puoi essere consapevole e vivere consapevole quindi noi intendiamo avere le conoscenze per poi fare un tipo di vita che ci faccia stare bene, che ci faccia stare bene sia come persone che come comunità e quindi in armonia con la natura e con l'ambiente. Non è nulla di particolarmente nuovo, a me piace molto un economista che studia quelle che lui chiama le extreme land, le terre estreme dove la razionalizzazione delle risorse è obbligata dall'ambiente e dal territorio quindi devi per forza essere consapevole in quel tipo di ambienti e in realtà è stato così anche nella nostra società fino a un centinaio di anni fa insomma se così vogliamo dire. Ora abbiamo in realtà molte più conoscenze e quindi è possibile vivere in maniera consapevole ma allo stesso tempo vivere bene, cioè non con quelli che erano gli stenti che magari hanno fatto i nostri nonni. Penso che le persone ora siano molto preparate per questo passo, il modello industriale è un modello che è già superato e c'è una grossa predisposizione a fare un cambiamento di vita che sia in termini proprio di maggiore armonia con la natura e con l'ambiente. Prima di tutto informarsi e non solo attraverso i canali classici. Io nasco come venditore di libri e penso che i libri siano assolutamente la miglior forma per informarsi quindi lasciare un po' perdere il social network, il facebook che in questo momento è diventata la principale fonte di informazione ma è un'informazione molto breve, molto a un passano, un'informazione che non ci fa crescere e invece cercare di crescere, di formarsi, fare formazione e leggere tanti libri. Il problema di fondo è che la medicina deve fare il salto perché accidenti, università, trattati, congressi, sempre la stessa musica, sì, grandi progressi tecnologici però è sempre la stessa musica, invece il mondo cambia a una velocità spaventosa e qual è lo scopo della fondazione? Essere moderni, moderni in che cosa? In una nuova idea di salute che non riguarda le cose classiche, ci mancherebbe le cose classiche, che sono accettate e rispettate quando la medicina ci vuole, ci vuole, ma nel frattempo il mondo cambia in altissime velocità e bisogna andargli dietro. Allora qual è il nostro piccolo sogno romagnolo? Il piccolo sogno romagnolo che spesso i pazienti chiedono ma dottore bisogna mangiare così e così, come faccio io a procurarmi questa roba? E il dottore mai dice come consigliare i suoi pazienti vai qui, vai lì, prendi questo, fai questo, no, dice vai in farmacia, prendi quel farmaco, fai quell'esame, c'è qualcosa che non va in questo sistema. Quindi il nostro obiettivo, piccolo piccolo adesso e speriamo che negli anni futuri possa diventare più grande, che c'è una nuova coscienza, un nuovo vento corra nel mondo medico in modo tale che il medico abbia il coraggio e la responsabilità di far operare alle scelte dei suoi pazienti che vanno nelle scelte di vita, certamente stile di vita ne parliamo tutti, ma lo facciamo in pochi, ma anche in quello che mangi, dove ci sono le cose giuste, un super controllore della salute. Il medico deve avere il coraggio di esercitare questa funzione e la fondazione si è presa questo ruolo. I riscontri dei colleghi per adesso siamo discretamente tollerati, ma ho visto che cominciamo a essere un po' copiati e quindi quando sento un collega che dice, fai questa cosa qui, che è la stessa cosa per cui combatto io un po' la Don Quinshot, sono contento e secondo me è solo questione di avere pazienza, tenacia e costanza, ma questo percorso, questa ventata, prenderà anche il mondo medico.